Ciao a tutti amici, in questo video andremo a fare una reaction ai momenti più soddisfacenti di Fortnite. Se questo video ti dovesse piacere, metti mi piace a questo video, iscriviti al canale che non ti costa nulla, ti costa 0€ e 0 tempo, e attiva la campanella per non perderti anche tutti i miei prossimi video. Se vuoi supportare il mio canale, potresti mettere il mio codice creatore LastG nello shop di Fortnite quando farai un qualsiasi acquisto. Lo sponsor di questo video è il negozio online casefun.com, dove potete comprare le chiavi di attivazione del Windows con lo sconto del 50%. Windows 11 è con noi da diversi giorni. Se hai Windows 10, ti verrà chiesto di aggiornare oppure puoi aggiornare il tuo computer manualmente. Ma cosa puoi fare se non hai Windows 10? Ci sono solo due modi per ottenere un nuovo Windows 11. Il primo è acquistare un nuovo dispositivo con una versione preinstallata di Windows 11 o ottenere Windows 10 che ti consente di aggiornare il tuo sistema a una versione più recente. Il sito in questione offre la possibilità di acquistare chiavi di licenza per software di Microsoft. Tutte le chiavi sono chiavi O e M, forniscono un servizio post vendita a vita. Quello che dovete fare è andare sul sito, scegliere il prodotto che vi serve, aggiungerlo al carrello e applicare il codice sconto che troverete in descrizione del video. E adesso do un caldo benvenuto a tutti i nuovi arrivati, invece a tutti i miei vecchi amici, bentornati. Oh my god, I should have shot him, I don't know why. L'avrai detto anch'io, 875 con un flick così. Questo qua con il FAD. Questo qua con il FAD. 1, 2, 3, go. Dead. Madonna. Al volo così. Dai. Sali sopra. Oh. What? Oh. Cos'è? Fast in Furious, scat? Il tipo è vestito di... Poi? Ah! Se vanno waspirare il roto? Come some remember? Chenhè. Cosa è il peccetto? Grandeなんですllo. ma... ma l'ha visto? io non l'avrei neanche visto sinceramente raga se sta ligando il baguio del teclado che levanta ele sta abaixando tutta ora vei un pump caralho dapposto no highlight vei f***a f***a 19, peraltro potrei fare più ma... no way holy s*** oh my god bro no way no way quante volte l'avrà fatto per riuscirci di curva psche ebane oly kid behind us though oh my god quanto li ha fatto cazzo i don't know f***a guardatelo com'è serio bam 67 in testa nice guardati 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 ho capito dopo due secondi che cosa era successo ah questa modalità l'ho giocato anch'io per fare le missioni intruso piccolo intruso intruso piccolo intruso pow oh s*** oh my god quanto cazzo era ideale questo questo volo bam ma questo qua continua a fare trick shot su trick shot sì 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 tu subi resisto Arredo di un sai c***o BAM Vabbè Vabbè Vecche 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 Questo è bellissimo Questo è bellissimo Questo è bellissimo Chi è Kulsis? Ho uscito Kulsis Ho uscito Kulsis Ho uscito Kulsis E' un pro player AHHHHH GITSUCKED OH MY GOD We're fast Ma quanti punti ha? 320.000 Ehm... La madonna Ohhhh Ho proprio cremato senza l'es Aspirato secondo me in questo momento Ok Questa è così Dump Ventura 30 A e puo che bello questo trickshot cazzo ma quanto cazzo sono veloci ma vi doppate porca troia madonna perfetto cazzo avrei voluto anche io giocare così però sono un nabbo della madonna vaffanculo a tutti i pro player questo qua sta giocando a need for speed però se fornite se la sta godendo lui laserato laserato così proprio poverino madre mia il kinzi pone se vanno a bagnare rius se non guidao capullo se notan mucho los cetos non ci venite oh si che se notan z oh mi hai fatto prendere uno spavento coglione oh my god amela crazy bellissimo questo io voglio prendere uno spavento si qui vuoi farlo? ok 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 oh my god non se lo aspettavo neanche un po cioè così è arrivare da da chissà dove un tipo ok 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 piscontroll un'altra volta piscontroll figa tre volte l'ha piscontrollato bellissimo cazzo ogni tanto succede pure a me però molto raramente questa cosa ha fatto questa è invece brava questa è brava questa è brava è molto più brava di me quindi la siro oggi stai dietro oh se uccide qualcuno con sto pesce non muoio qui wolfa ha preso lo spavento ha preso ho preso ho preso ho preso ho preso ho preso ho preso ma è sempre lo stesso raga ma questo qua ha le hack figa non è impossibile che le faccia tutte lui tutte lui eeeh cosa oh figa come cazzo ha fatto sopravvivere in teoria avrebbe dovuto morire se sarebbe dovuto morire di di cosa di di danno da caduta si oh arriva arriva anche questo oh my god oh my god si si l'avrei detto anch'io cazzo c'è stavi di tanto oh pre-fire non credo che ho solo avuto una scelta come oh oh my god quanto ma è sempre lo stesso raga ma questo fa le hack sono sicuro oh vediamo no ha investito uno lol credo anche l'altro ho fatto double kill oh my god oh my god ahahah 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 oh my god fija 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 Allora amici Per oggi è tutto Spero che questo video vi sia piaciuto Non dimenticatevi di mettere un mi piace Iscrivervi al canale E attivare la campanella Noi ci vediamo nel prossimo video Io mi chiamo LostHiroji GG Ciao